E' ufficiale il prolungamento della pista 0422 dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara di circa 300 metri. Ad annunciarlo questa mattina il presidente della regione Marco Marsiglio che nei giorni scorsi aveva sollecitato ulteriormente i vertici di Enac e che oggi ha parlato di un giorno di festa per la nostra regione. Stiamo continuando questo dialogo istituzionale, quindi abbiamo scritto tramite l'ambasciata e attendiamo di essere ricevuti e di poter continuare questo percorso. Certo oggi questo percorso è molto più serio e affidabile perché abbiamo ottenuto questa autorizzazione storica, un evento storico per la nostra regione. Adesso inizierà subito il percorso dei lavori, appalto, gara, progettazione, quindi speriamo entro il 2021 di aver realizzato la pista e di poter nel frattempo costruire le relazioni commerciali con le compagnie aeree per avere queste rotte non soltanto dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Cina, dal Sud America, cioè dovunque ci sono anche importanti comunità di abruzzesi che vogliono tornare, vogliono costruire relazioni commerciali, sociali, economiche, turistiche e quindi questo per l'Abruzzo è davvero un grande passo in avanti. La notizia è stata data alla presenza proprio dei vertici dell'ente nazionale aviazione civile e di Saga. Per lo scalo aeroportuale è un passo storico e decisivo e che permetterà l'effettuazione di voli intercontinentali con l'obiettivo di avvicinare la quota di un milione di passeggeri l'anno. Una notizia importante, una notizia che aspettavamo perché nel fare la programmazione dovevamo ottenere anche alcuni requisiti che oggi abbiamo solo parzialmente. Questo allungamento ci permette di guardare con fiducia il futuro. Sta partendo, credo venerdì verrà pubblicato il primo bando per l'ampliamento delle rotte aeree nazionali e internazionali. Stiamo portando avanti una serie di contatti internazionali per arrivare fino a Mosca ma soprattutto per riaprire la linea degli Stati Uniti. E questo chiaramente ci interessa in maniera particolare. Se poi a ciò aggiungiamo le voci sempre più insistenti che parlano della chiusura dell'aeroporto di Ciampino è chiaro che ci proponiamo noi come secondo aeroporto di Roma. Usciamo un po' fuori, l'ho detto un po' brutalmente, dal mazzo degli aeroporti tra virgolette minori perché con questo upgrading, con la nuova pista intercontinentale che permette di ordinare i voli intercontinentali ci collochiamo a un livello superiore di molti altri aeroporti come noi. Ed è finalmente mettere un piede avanti nella fila degli aeroporti anche per farsi considerare interlocutore valido dall'aeroporto di Fiumicino, da Malpensa. Insomma è una cosa importante, direi un risultato in parte storico.